buongiorno a tutti spero di cuore che state bene oggi è venerdì come state spero di cuore che state bene ragazzi si avvicina weekend sono entrata a farvi un po una lettura in questa di caffè ok per iniziando da oggi 16 fine 18 diciamo giugno scusate giugno non gennaio perché ho fatto un video con oroscopo invece di dire giugno ho detto gennaio mille scuse vi prego di cuore mi scusate eravo stanca mi sono imbrugliata un po con parole dicendo questo vi abbraccio di cuore vi mando tanta luce vi mando tanta bella energia e spero di cuore che mi scusate per quel incidente lì per quel video che io invece di giugno ho detto gennaio adesso mi voglio concentrarvi concentrare in due variante speriamo che vi fate scegliere già prima o seconda variante con questa occasione vi ringrazio a tutte le persone che mi fate seguire ringrazio di cuore a tutte le persone che vi fate iscrivere sul mio canale vi piace quella che faccio io vi ho detto è una lettura generale non è personalizzata per letture personalizzate mi cercate su whatsapp ok adesso mi voglio concentrare per prima variante iniziando da oggi 16 di gennaio noi il gennaio vedete giugno ce l'ho una problema con gennaio giugno qualcosa di genere per giugno fine 18 vi extrago anche una energia per vedere che succede in questo weekend e anche giorno del lunedì iniziando da prima settimana la settimana prossima vediamo la energia vostra per prima un viaggio o fate un viaggio per rilassarvi andate in vacanza date andate chi so io fate un viaggio andate la parenti per trovare parenti familiari amici fate un viaggio un viaggio bellissimo vedete un viaggio bellissimo un viaggio rilassato e forse andate un po amare in questo week no o a lago o a montagna chi so io andate in qualche parte fate un viaggio insieme con amici insieme con vostri familiari dove vi esce bene iniziamo la bella nostra lettura per giorno di oggi 16 fine 18 di giugno diciamo giugno ok perché noi gennaio giugno io già sono così imbrogliata con queste cose che vediamo un po che vi sta uscendo a voi una lettura generale vediamo un po che vi dice guarda qua prima di tutto vi esce un angelo vedete con le ali aperte avete un protezione maggior parte di voi guardate qualche bellissimo anche se su fundale nero non importa c'è un bellissimo angelo che protegge le persone con iniziala di c le persone con iniziala di ml persone con iniziala di l questo angelo protegge un core vuole dire che sarà protetta vostro amore vostro amore già è protetto diciamo così avete un protezione su vostro amore dopo qua vi esce un pavone pavone di solito vuole dire un grande ricchezza un grande fortuna per le persone con iniziala di a vedete a avete anche un coriccino bellissimo qua avrete una fortuna in amore perché no può essere un amore fortunato un amore destinato no può essere così qua mi esce un segno di scorpioni guardate qua che ci avete un po di problemi di nervi voi scorpioni siete un po arrabbiati guarda qua una donna in scorpione come esce fumo su naso che vuole dire che ha preso foco di nervi ci avete un po di nervi questo mese fine di questo mese anche inizio di mese di luglio avrete un po di problemi di nervi diciamo così siete un po nervosi nervosi con voi stessi forse le astre forse le planete vi dà questa sensazione per altre persone vi cresce ali che vuole dire vuole dire che volete la libertà volete rupervi di una situazione un po bruttina che non vi piace volete essere più liberi no probabilmente te siete su una relazione toxica come vedo io qua vi volete liberare di questa relazione volete vivere di state adesso volete vivere la vostra libertà e riuscite anche con successo ok qua mi esce una persona con iniziale di d di r di l che avrà una fortuna di dinaro questo weekend qualcuno vi regala soldi probabilmente la vostra famiglia vostri parenti chi so io vi regala soldi e sarate felici ok qua vi esce un voto e un relazione vedete una porta chiusa vi si chiude una porta in faccia perché probabilmente avete da risolvere qualche cosa e vi si esce un ostacolo non mai non potete fine di settembre e voi non potete risolvere questa questione postare documenti lavoro una questione giuridica non lo so che però si chiude le porte sono chiuse non potete non potete entrare su queste porte sono chiuse vuole dire che si mette bloccaggi qua mi esce un animaletto un po ok un animaletto un po malato che vuole dire vuole dire che voi vi sentite un po giù avete un po di depressione uni di voi specialmente le persone con iniziale di c le persone con iniziale di p un p grande mi esce le persone con iniziale di s avete un po un stagio di depressione un po chi so io che vi sa successo vedete questo pesce che è morto vuole dire che non ci avete nei soldi avete un po di problemi anche in ambito di soldi in ambito di capirvi con la persona in ambito di amore ok qua diciamo che un un desiderio vostro si può trasformare in realtà ma ci avete tanto da luttare questa è già stata per prima variante non vi è piaciuto mi lasciate scritto su questo video ok e io in questo punto qua vi continuo a mai farvi queste letture che vi piace questo tipo di lettura in caffè così su piatto li mai faccio adesso facciamo vediamo una energia anche per seconda variante ok ho pulito il piatto vediamo un'energia per seconda variante vediamo un po che succede anche da voi in seconda variante vediamo un po una bellissima energia anche per voi iniziando da oggi 16 fino in dieciotto diciamo così di giugno questo mese maraviglioso speriamo che arriva caldo sempre piove però io questo tempo un po così mi piace la tanta pioggia no però mi piace perché tanto caldo a me non mi fa bene vediamo un po una energia qua state attenti per voi tutti perché o siete già malati sette in depressione già avete una malattia di tanto tempo o perché no questo mese vi prende una virosa vedete vi fate una bellissima malattia attenzione massima non avere incidenti attenzione con le macchine come guidate per non avere un incidente grosso attenzione come vi coprite perché questo tempo vedete quando è freddo quando è caldo non si sa mai c'è una energia di malattia qua e non mi piace vediamo un po anche per voi che dice questo caffè vediamo ok qua mi esce un brutto serpente qua ci avete le persone le persone che fanno in influenza negativa su di voi persone con iniziala di e prima di tutto è un'altra persona con iniziala di b e e b sono persone negative state attenti con questi personaggi dentro in casa vostra piuttosto può essere vampiri energetici vedete qua un quattro grande una faccia due occhi vedete ci sono persone che sono con occhi su di voi per farvi tipo maledizioni o per farvi tipo incantesimi o mal di occhi ok qua mi esce un anello guarda qua un anello per le persone con iniziala di m voi contratte vero destino e la vostra vita fra un po o vi chiede mano vi sposate o contratte vero destino ok qua mi esce un cane un po bastonato diciamo così qualche persona che ha fatto un sbaglio diciamo così e adesso si sente un po in colpa e non capisce che deve fare vuole perdono quasi tratta di un uomo che ha sbagliato forse ha tradito una donna forse si è comportato male con una donna e allora lui vuole perdono ma non si sa questa persona ce l'ha una iniziale di t su di lui è un l è un l ha un piedi non si sa della donna lo perdona perché io vedo qua che tante cose le ha mai fatto e questa donna non lo vuole perdonare ok qua invece mi sta uscendo un quattro foglio benissimo riesce in questo weekend vi escerà fortuna in qualche cosa se volete avere qualcosa chi so io vi esce fortuna di dinaro un amore non importa vi esce una bellissima fortuna qua mi esce una bellissima colomba questa vuole significare pace armonia felicità può essere anche protezione da dio in vostra casa per le persone con iniziala di g per le persone con iniziala di r dc vedete questa bellissima colomba che la colomba significa protezione le vostre casse ok qua mi esce un ostacolo per tante persone qua sette le persone che ci avete ostacoli ce li avete ostacoli perché vi limitate voi con vostro carattere perché pensate negativo vedo che ci avete probabilmente un po di depressione e ci avete tanti pensieri negativi in la vostra testa dovete togliere questi pensieri perché de no vi affondate su un labirinto di negatività e non mai uscite da lì ok qua c'è una freccia ok qualcuno arriva in vostra casa da un viaggio lungo siete felici di aspettate una persona con iniziala di n di a un'altra persona con iniziala di z qua mi esce che questa persona da un viaggio lungo arriva qua c'è una faccia di una donna che sta ridendo c'è una donna che si prende gioco di un'altra donna questa donna è bionda quell'altra donna è bruna questa donna ce l'ha una iniziala di i e quell'altra donna ce l'ha una iniziala di ere la donna con i si prende gioco della donna con iniziala di ere qua è un gioco un po di orgoglio un po di di stupidaggine diciamo così no qua c'è una scarpa una scarpa può significare un cambiamento del destino per un delle persone no vi cambiate destino poi cambiate destino di male in bono potete cambiare un matrimonio potete cambiare un relazione qua invece ci avete un divertimento guardate questa donna come baila probabilmente andate alla discoteca alla club chi so io contratte gente vi divertite fate una bella festa benissimo e qua vi esce una a parte le persone che 7 segno di gemelli e leoni vi si succede un desiderio perché qua mi esce mi esce che un desiderio si si trasforma in realtà per leoni e gemelli a parte per voi altre persone versate le lacrime vedete per un grande amore altre persone altre lacrime per un pacificamento volete pacificarvi però non credo ok in generale questo ci ha stato la vostra tazza di caffè per seconda variante spero che vi sono incantata anche che questa volta con questa lettura mi trovate su alza per caso un quale volete tante domande se avete domande da fare no lasciatevi anche voi su questo video desideri perché fine di giorno di 18 io lavoro con incantesimi per rupere la maledizione che sono su di voi faccio pacificamente in amore indulciamenti in amore prego per la salute prego per tante cose le persone che siete di qua di italia che parlate questa maravigliosa lingua italiana volete lasciarvi i vostri desideri su questo video che desideri avete tipo voglio salute voglio amore con x y z io lavoro anche su per voi cari italiani e lasciatevi desideri fino al giorno di 18 perché io vi scrivo su una cosa e dopo prego per voi tutti dicendo questo vi auguro un weekend maraviglioso vi mando tanta luce tanto bacio mille baci mi chiedo scusa per sbagli che li faccio perché non parlo abbastanza bene italiana e vi voglio tanto tanto bene grazie a tutti